Si presenti? Buongiorno, io sono Gandossi Claudio, nato a Milano 73 anni fa e vi posso assicurare che la Moratti è il sindaco migliore che Milano abbia mai avuto. È una persona oltre che intelligente, di cuore, aperta e fa molto bene ultimamente sul canale 2015 a ripetere quello che sta facendo e che ha fatto contro la demagogia politica degli incapaci, i bunno, quelli che a Milano diciamo bene i bunno, che non sanno cosa sia il lavoro, che non sia lavorare e quindi non capiscono quello che uno sta facendo e ne abbiamo avuto la prova in tre anni e mezzo di due non governi prodi dove con i vari percorrano scagno hanno saputo fare solo uno slogan, anche i ricchi piangano e hanno fatto 63 nuove tasse solo per i poveri.